carissimi fedeli buonasera il 24 marzo l'arcivescovo in questa cappella ha iniziato la supplica alla madonna di sipondo nel tempo della prova e la vergine maria ha accolto le nostre paure ci ha accompagnato in questo tempo di difficoltà a lei abbiamo affidato i nostri desideri e possiamo dire dopo tre mesi che maria ci ha ascoltato che la nostra madonna ci ha aiutati e protetti in queste settimane difficili soprattutto nei primi due mesi lei veramente ha confermato la di essere la protettrice della nostra città le statistiche hanno dimostrato che a manfredonia il numero di contagio è stato inferiore alla media di quelle registrate in puglia certo dobbiamo continuare con la prudenza e la responsabilità ma oggi vogliamo ringraziarla e dire insieme grazie mamma del cielo perché ci hai manifestato l'amore di colei che custodisce la vita dei suoi figli e in questa giornata in cui concludiamo la supplica che potrà sempre rimanere a livello personale vogliamo unirci in preghiera unendo i cuori di tutti i fedeli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen l'angelo del signore portò l'annuncio a maria e della concepì per opera dello spirito santo ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte ecco l'angella del signore si faccia di me secondo la tua parola ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen prega per noi santa madre di dio affinché siamo fatti degni delle promesse di cristo preghiamo infondi in noi o signore la tua grazia tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di cristo tuo figlio concedi per la sua passione la sua croce di giungere alla gloria della risurrezione per cristo nostro signore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen supplica la madonna di siponto nel tempo della prova o maria piena di grazia madre di dio e della chiesa generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te con il titolo di vergine santissima di siponto guardano i tuoi figli in questo tempo di preoccupazione di sofferenza per il contagio che alimenta la paura ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina l'elisabetta soccorrici nella nostra fragilità visita ai malati illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo gesù cristo la liberazione dall'epidemia che sta attutendo la sua aggressività ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen madonna santissima di siponto veglia sul tuo popolo dona sapienze governanti e dagli amministratori perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità sostieni chi si spende per i bisognosi i volontari gli infermieri i medici che sono in prima linea nel curare i malati anche a costo della propria incolumità ottienici dal signore la benedizione della chiesa a partire dai suoi ministri rendi la segno e strumento della tua luce della tua bontà ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen o maria consapevoli dei nostri peccati ci affidiamo a te madre di misericordia accresci la nostra fede accompagna le famiglie rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli preserva gli anziani dalla solitudine fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandone dello scolaggiamento intercedi per i poveri o vergine santissima di siponto accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza amen salve origina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo e sui figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi o che i tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria e mentre rinnoviamo alla vergine santissima il nostro grazie per il suo aiuto il suo sostegno e la sua protezione invochiamo la benedizione del signore il signore sia con voi vi benedica di onnipotente padre figlio e spirito santo benediciamo il signore rendiamo grazie a dio grazie 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 grazie